Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio accanto all'orto del convento dei frati minori Cappuccini e al giardino. Abbiamo sentito un po' anche come sottofondo le campane della grande chiesa intitolata a San Pio perché in questa giornata vogliamo ricordare l'anniversario della morte di un grande figlio spirituale di Padre Pio, Francesco Morcaldi, che la storia va ad indicare come il sindaco di Padre Pio. Ecco, a Francesco Morcaldi tutto il popolo di San Giovanni Rotondo e forse anche tutto il popolo di Padre Pio deve, un grande grazie ecco perché alla sua caparbietà, alla sua tenacia e alla sua forza d'animo è riuscito a tenere qui a San Giovanni Rotondo quando c'erano pressioni nel mondo della chiesa a trasferirlo e quindi lui riuscì anche attraverso picchetti, anche attraverso tra virgolette manovre che andavano quasi a circondare il convento negli anni venti proprio per tenere qui Padre Pio e a Francesco Morcaldi si deve anche quella lettera che Padre Pio cento anni fa scrisse per legarsi definitivamente a San Giovanni Rotondo perché lui chiese al sindaco di San Giovanni Rotondo ecco, voglio essere sepolto qui in un tranquillo cantuccio di questa terra, ecco questo amato popolo quello di San Giovanni Rotondo, ma chi era Francesco Morcaldi? Ecco, attraverso queste foto che stiamo vedendo lo vediamo proprio accanto al suo caro e amato Padre Pio Francesco Morcaldi nacque a San Giovanni Rotondo nel 1889 nella prima guerra mondiale quando nel 1919 ritornò dalla prigionia trovò un gran movimento intorno a Padre Pio con il quale stabilì subito un rapporto di stima, amicizia, devozione filiale che durò tutta la vita sindaco di San Giovanni Rotondo dal 23 al 27, poi dal 1954 al 58 e ancora dal 62 al 65 si è adoperato per scongiurare quel temuto pericolo del trasferimento di Padre Pio da questa terra e proprio a lui Padre Pio scrisse la lettera 100 anni fa, il 12 di agosto dove chiese che le sue ossa fossero composte in un tranquillo cantuccio della terra che lo aveva ospitato poi il sindaco Morcaldi presenzò anche all'inaugurazione della casa a sollievo della sofferenza e all'arrivo della statua della Madonna di Fatima così mise sempre in pratica tutti gli insegnamenti del suo caro e amato Padre Pio e Francesco Morcaldi era un uomo di fede, di fede pura, dal coraggio non comune era generoso, leale, intelligente, aveva la parola facile, era ammirato da tutti anche dagli avversari politici, la stima della sua popolazione non gli venne mai meno grazie al suo spirito conciliativo, aveva uno spiccato senso della patria, della famiglia e qui ci piace oggi ricordare nel giorno dell'anniversario della sua morte il suo primo incontro con Padre Pio ecco la prima volta che lui ebbe modo di incontrare questo giovane frate minore Cappuccino che era qui nella sua San Giovanni Rotondo, ecco lui tornava dalla guerra, rientrò in Italia dalla prigionia nel mese di novembre del 18, continuò il servizio presso i comandi di presidio di Massacarrare e di Foggia congedandosi così nel 1921 il primo incontro, Padre Pio per consolarlo della perdita di alcune persone a lui care gli disse i tuoi parenti non ci sono più ma sono qui con te, tu non li vedi, coraggio le sofferenze sono pene salutari della vita, se benedette offerte al Signore e da allora leggiamo proprio nei suoi appunti, nei suoi scritti lui scrive rimasi attaccato al buon padre da venerazione ed affetto filiale la provvidenza volle che io fossi accanto e potessi collaborare con lui nell'apostolato nella carità che egli svolse attraverso la quale questa zona isolata e misera del Gargano doveva trasformarsi così in una cittadina ridente e piena di vita in un luminoso faro di spiritualità Grazie